Mercoledì 19 agosto 2020. Mancano 134 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Italo Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Italo. Il nome ha origine greca e significa vitello. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffero. Accadde oggi. Il 19 agosto del 1419 viene posata la prima pietra dell'Ospedale degli Innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 19 agosto ricordiamo la stilista francese Coco Chanel e il regista Nanny Moretti. La citazione del giorno. Ho visto più lontano degli altri perché stavo sulle spalle di giganti. Isaac Newton. Dice il saggio. I difetti sonnecchiano, ma non muoiono. Il bel paese. Per una vacanza in bicicletta, perché non scegliere la pista ciclabile più lunga d'Italia? Si tratta della pista ciclabile Destra Po, che corre lungo le rive del fiume su un percorso di 125 chilometri, dalla frazione stellata di Bondeno fino a Gorino Ferrarese. La pista si snoda fra i viali alberati, mulini fluviali, villaggi e pianure che rendono il tragetto perfetto, anche da un punto di vista paesaggistico oltre che sportivo. La pista è inserita nel progetto Eurovelo, che collega Cadice con Atene, ed è pianeggiante e alla portata di tutti.